ben ritrovati a tutti carissimi amici chitarristi questo video è per dare una risposta ad un altro nostro amico che mi ha chiesto di fare un preset riproducendo il suono e sound di Gilmour nel brano shine on you crazy diamond allora per fare questo innanzitutto ho utilizzato la mia splendida blade del 1989 chitarra che è il sogno erotico di qualsiasi chitarrista tornista delle ballere di liscio degli anni 80 90 e pod x3 live vi dirò la verità non lo so se il suono assomiglia all'originale perché ho voluto dare un'interpretazione un po personale di quello che mi sembrava suonasse e girasse bene sulla base che andiamo a sentire di seguito poi come l'ultimo video posterò tutte le pagine del pod x3 live con tutti i settaggi in maniera tale che chi vuole copiare eventualmente i parametri può farlo ottenendo lo stesso identico suono unica cosa ecco ho tenuto volutamente un po' più saturato al suono probabilmente dell'originale perché a volume un po' indietro all'inizio l'ho utilizzato per l'arpeggio e poi l'ho aperto nel momento in cui sono andato a suonare la parte di solo un po' indietro all'inizio l'ho aperto nel momento in cui sono andato a suonare la parte di solo un po' indietro all'inizio l'ho aperto nel momento in cui sono andato a suonare la parte di solo un po' indietro all'inizio l'ho aperto nel momento in cui sono andato a suonare la parte di solo in cui sono andato a suonare la parte di solo in cui sono andato a suonare la parte di solo in cui sono andato a suonare la parte di solo un po' indietro all'inizio l'ho aperto nel momento in cui sono andato a suonare la parte di solo un po' indietro all'inizio l'ho aperto nel momento in cui sono andato a suonare la parte di solo